Dunque ragazzi vi chiedo perennemente scusa per la qualità dell'audio ma ero dalle cuffie quindi godetevi il video Ragazzi qui Flummi e oggi siamo su Among Us Dunque sono qui perché ho problemi col pc purtroppo Mi dispiace da aprire il culo E per un po' non vi porterò Minecraft e neanche dei sims che avevo intenzione di portarvi Magari ve lo porto su mobile ma non è la stessa cosa Spero di risolvere presto questo problema ragazzi Dovrei comprare un pc nuovo comunque Andiamo ad Among Us Dunque è la terza volta che ci gioco ragazzi No perché sono... no ma io di solito sono verde Comunque sono queste Non sono ancora ben esperta su questo gioco Quindi vediamo Bene ragazzi siamo gli impostori Good ok oddio ma c'è un piccolo Allora andiamo subito da qualcuno che è da solo Quindi io farei kill 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 Neh Dove scappi dove scappi Adesso questo lo sa Quindi ragazzi mi sono già fatta sgamare perché sono una testa di culo Non sono capace perché a parte il fatto che è la terza volta che ci gioco Però io sono proprio sgamabile al 100% Allora io voterei questa qua Ok siamo fucsia Faccio ancora questa partita Poi stacco Comunque scrivetemi se volete dei giochi in particolare mobile Perché ve l'ho detto per un po' porterò solo giochi sul telefono E quindi dovete darmi qualche idea perché io non sono molto esperta Ragazzi non è covid non vi preoccupate Però mi sono ammalata in questi giorni Aspettate un po' di guarire perché se no Allora 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 Ah Ok Me l'ho ben capito che Marius non fare scherzi Voglio Cliccicare la testata E vabbè Oddio Ok Ma c'è qualcuno che fa delle cose qua o Ancora Che stanno No Aiuto Successo Aiuto The good Secondo me Non so Allora vedi lui mi dice black Green Green Aiuto Vabbè io voto questo qua Speriamo almeno che sia l'impostore Nooo Non l'è stato ancora Eh però Insomma Nooo Noo ragazzi E' Marius E' Marius E' Marius E' lui E' lui Non è l'arancione perché sta scappando Noi c'è staccata la cuffia E' qualcuno Aiuti Vai Vai Io carino Vai Ah Ok Bene ragazzi Niente Dopo questa partita molto Interessante Io direi di staccare il video qua Fatemi sapere se vi è piaciuto Lasciate un bel pollice Nell'insù Iscrivetevi al canale Qui da Foglie è tutto Ci vediamo nel prossimo Ciao